Buonasera, benvenuti al Gira Torna, tutti coloro che fanno il compleanno facciamo un urlo libero! Andatevi ricordo tutti i venerdì sera, anni 70-80 e il sabato sera 70-80, musica del live latinoamericano e tutti i successi del momento, qua al Gira Solla in compagnia di Andrea Andrea, quindi buonasera a tutti, buon divertimento al Gira Solla!